Ciao mamma! Amore! Opa! Cioè ci sono altre persone con noi? Scusa, ma sistemiamo qui queste due case bianche? Sì! Ci sta sempre Mazzalupi con gli ospiti! Scusate tanto! Il matrimonio con Cessore a ferro agosto! Quanti ospiti sono attesi? Ma non vogliamo esagerare! Sono solo il cerchio magico! Tra poco ti presento tutta la famia mia! Poi mi vergogno! Ma Marisa! Se siamo persi Marisa! Quello che ha fatto la segnalazione è un giornalista Sandro! Chi siete? Quelli intellettuali alternativi, sempre nudichi, spinelli! Cerchiamo di evitare un inutile polverone! Se carinamente mi potete dare la password! Giusto il tempo di fare una gretta streaming! C'ha detto? Mazza simpatici! Ma cos'è che scrive Sandro Contito? La lettera al Parlamento europeo! Poi gli 800 esiliati c'era Zutto! Comunisti, socialisti, anarchici! Custodire la memoria di Ventotene! Ma che è? Ma che stanno? Ah no, onestamente questa cosa del confine a Ventotene non avevo mai sentito! Ma fatemi capire, ci stava la dogana tipo quando è l'estero! In effetti era sufficiente un chiarimento! Un gentleman agreement! Vi rendete conto di quello che hanno fatto? Sandro! Per che cosa? Un banchetto, non stiate o scena! Ci siamo rotti da voi professoroni Radikarschik! Radikarschik? No, no, no! Ha detto Radikarschik! Ha detto, l'ha detto! Dai, Emanolo, facci cantare! Stiamo moriando con giro a salvare le balene! Ma chi se ne incula le balene?